Sono Davide Tardozzi, team manager della Ducati MotoGP. Viaggiando molto mi sono accorto che all'estero le energie rinnovabili sono decisamente una cosa che ha avuto successo e ho pensato anche io qui a casa mia di fare un impianto fotovoltaico. L'ho già messo giù da qualche mese e sono molto soddisfatto perché direi che la resa è ottima e aiutiamo anche il mondo. Questa cosa dovrebbe essere supportata ancora di più dal governo ma vedo che ci sono aziende che si stanno spendendo molto per cercare di farla conoscere meglio. Io credo che l'ignoranza in materia sia ancora un qualcosa che va aiutato perché non c'è ancora convinzione e conoscenza del prodotto. Io credo che se si spingesse un po' di più molti si adeguerebbero a questi due tipi di impianti. Chiaramente le energie rinnovabili sono importanti ma devono andare a braccetto con l'efficienza. Questo vuol dire che gli sprechi devono essere una cosa assolutamente considerata e valutata da tutti. Io penso che ci saranno nuove tecnologie e nella ristrutturazione di casa mia io mi sono preoccupato di vedere e valutare tutto quello che poteva dare la massima efficienza per quanto riguarda gli sprechi di energia elettrica e anche per quanto riguarda riscaldamento, acqua calda, tutto quello che è possibile avere oltre a fare i cappotti interni piuttosto che proteggere la casa da quelle che sono le temperature alte o basse esterne sia un qualcosa che può sicuramente migliorare la situazione. Ducati fa parte di un gruppo molto grosso che è il gruppo Volkswagen e la proprietà Audi in questo momento stanno spingendo molto sulla transizione dal motore termico a quello a batteria, al motore elettrico e credo che tutta l'umanità, tutto il mondo si sta spostando verso energie rinnovabili. Io credo che sia ancora un po' presto perché i costi sono ancora elevati soprattutto quelli delle batterie ma tutto il mondo si sta spostando verso energie alternative, credo che il fotovoltaico sia quello più avanti di tutti in questo ma credo che sia una necessità di tutti andare verso lo sfruttamento non più del petrolio, di energie della terra ma quello che il sole soprattutto e l'energia alternativa ci possono dare. Le fonti rinnovabili anche nel mio ambiente sono oggetto di discussioni giornaliere è chiaro che il motorsport sta pensando e si sta preparando a quello che sarà il futuro è stato annunciato da poco che a breve ci sarà anche nel campionato MotoGP una classe di moto elettriche, cosa che fanno già le auto con la Formula E tutto questo vuol dire che sia le case automobilistiche che quelle motociclistiche si stanno preparando al futuro che sarà fra quanto? 5, 10, 15 anni? Non lo so ma sicuramente dovremo andare verso fonti alternative dal punto di vista della mobilità non sarà più possibile usare motori a scoppio che diventeranno la gioia dei collezionisti e degli amatori sicuramente passerà ancora un po' di tempo ma la direzione è sicuramente questa